Sarà un 2023 ricco di appuntamenti per il Museo Carlo Zauli che in queste settimane sta ospitando la mostra di Francesco Raimondi. Il museo, entrato a far parte delle case e studi delle persone illustri dell'Emilia Romagna, avrà un ruolo da protagonista nel fine settimana dal 19 al 21 maggio quando in città torneranno il distretto a Weekenda, colaccia itinerante e buongiorno ceramica. A giugno la nuova edizione del Festival dei Calanchi e delle Regille Azzurre e le poesie di Independent Poetry. A settembre due importanti mostre in occasione di Made in Italy, mentre nel corso dell'anno si lavorerà molto sulle residenze d'artiste e su un progetto di approfondimento dedicato agli scultori italiani del Novecento. Vorrei far notare la riconferma del Festival del Calanchi e delle Regille Azzurre che quest'anno si è spostato alla fine di giugno. Abbiamo individuato una finestra libera da altri eventi e occuperemo le serate infrasettimanali della fine di giugno e dell'inizio di luglio. È molto importante per noi consolidare questo Festival che da un certo punto di vista ci lega alla nostra radice storica. Carlo Zauli cantava ai Calanchi eccetera, ma ci permette poi di fare delle ricognizioni culturali a più ampio raggio, partendo dalla storia, dalle narrazioni, altri tipi di arte, la poesia. E questo è molto aderente alla nostra filosofia che è quella di, attorno alla nostra identità, esplorare tutte le forme artistiche. Quindi senz'altro il Festival dei Calanchi, ma abbiamo molte residenze. Siccome sono i vent'anni dalla prima residenza d'artista e vogliamo ricordarle che la prima residenza d'artista è stata a merito di Viola e Maldi, che ci propose questa formula vent'anni fa, torniamo a lavorare con Viola, stiamo lavorando a una residenza molto particolare che si chiamerà School of Nothing, che verrà poi realizzata nel 2024, ma tutte le basi le stiamo portando avanti adesso. È una residenza che punterà l'attenzione molto sul pensiero, perché come diceva poi Leonardo da Vinci, che è passato dall'ergilla azzurra, quindi siamo sempre in tema, le ha nominate così, l'arte è cosa mentale. In occasione di Made in Italy organizzerete qualcosa? E poi quest'anno per noi sarà un Made in Italy molto speciale, perché uno dei nostri progetti più prestigiosi, sia nostro come Museo Zauli che mio personalmente, è stato la curatela del padiglione italiano alla Biennale di Gindegen. Sappiamo che Gindegen è la capitale mondiale della porcellana, a causa della pandemia potevano ospitare solo un padiglione di un paese straniero e loro avevano esposizioni internazionali ma legate a singoli artisti. Come padiglione nazionale hanno scelto l'Italia con un progetto che si chiamava In Bianco, che è tornato dalla Cina e noi ripresenteremo questa mostra in bianco, cioè la porcellana ripensata e realizzata dagli artisti italiani, quindi da più di 30 artisti italiani, nel nostro bellissimo Salone del Podestà, Palazzo del Podestà. E contemporaneamente, sempre a Made in Italy, per una coincidenza, dall'altra parte della piazza, nella Galleria della Molinella, inaugureremo Ritorno a Fuping, che è una mostra sempre legata alla Cina ma con un progetto completamente diverso, curato con AICC, una mostra curata da me per AICC, insieme a Giuseppe Olmeti, e lì faremo appunto la tappa italiana di questa mostra che in questo momento è al Real Manifattura di Capodimonte, vicino al Museo di Capodimonte, in uno dei posti più belli d'Italia. Dietro di te alcune opere in mostra, sono già iniziate appunto l'esposizione al Museo Carlo Zali, e anche queste saranno abbastanza durante quest'anno. Sì, sì, certo, l'esposizione che vedete parzialmente dietro di me è dedicata a Francesco Raimondi, che è il più grande pittore, diciamo, su ceramica che oggi c'è in Italia, un artista vietrese che lavora con moltissimo colore, come nella cultura, nell'identità del suo territorio, della sua Vietri sul mare, e che due anni fa, durante un workshop, fece un omaggio a Carlo Zauli, dipingendolo, proprio ritraendolo in un piatto, insieme al maestro di entrambi, che è Guido Gambone. Durante questo bellissimo regalo che ci fece è nata questa idea di fare una intersezione tra la sua opera, tutte opere realizzate per l'occasione, sono 20, e le opere di Carlo Zauli. È proprio un dialogo tra gli opposti, perché Carlo Zauli è monocromia, essenzialità, Raimondi è veramente esplosione di colore, però lega questi due artisti in questa occasione l'astrazione che Raimondi ha interpretato in maniera originalissima. A fine mese, nel frattempo, ci sarà un grande evento di richiamo a Fenza, la cena itinerante. Voi che cosa organizzerete? Beh sì, in quel giorno ci sarà veramente un tourbillon di eventi qui al museo. Il venerdì, la cena itinerante vera e propria, nella quale ospiteremo il clandestino, in questi spazi, proprio qui nella vecchia stanza dei forni. L'anno scorso fu un successo clamoroso, con gli allestimenti molto creativi e molto belli di Morena. E il giorno dopo avremo un evento molto speciale, perché inauguriamo un nuovo filone, cioè dedichiamo un evento Focus on Vangi. Proietteremo un film su Giuliano Vangi, uno dei più grandi maestri scultori del Novecento, quasi coetaneo di Zauli. E questo è come inizio di un nuovo progetto, e ogni anno dedicheremo un omaggio a un grande artista della scultura italiana del Novecento.